Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video eccoci qua con un altro video di Master 3.4 come arma principale sto usando il Ser 21 e si quest'arma sicuramente ha meno rinculo delle armi che ho provato prima ora questa arma è quella che ha meno rinculo di tutti infatti magari dalla breve distanza mi trovo meglio con altre armi ma dalla lunga distanza è davvero ottima con quest'arma della consiglia io penso di usare più spesso quest'arma anche di livellare un po' di più comunque quando hai gameplay io farò davvero tante uccisioni ma mi sembra anche più di... anche più di tante uccisioni ma non mi sembra più io e anche come... come morti chiuderò con sei morti, cinque tutto sommato che mi sembra anche ottimo non è un brutto risultato questo domenico quindi volevo... volevo consigliarvi vivamente quest'arma perchè è veramente buona ve la consiglio assolutamente e... beh... ormai il nuovo DLC di Call of Duty Lost è già uscito infatti vi porterò video su quelli per il momento ma riprenderanno anche questo genere di video quindi spero che vi piaccia io dato che è da poco che ho risolto il problema dell'audio volevo comunque farvi... vodere almeno volevo farvi vedere con tranquillità senza me che parlo questo video ed è quello che farò adesso quindi spero che il video vi sia piaciuto e godetelo quindi commentate iscrivetevi se mi piace ciao ragazzi bello guardate l'obiettivo alfa neutralizzato guardate l'obiettivo alfa neutralizzato guardate l'obiettivo guardate l'obiettivo guardate il liquido guardate l'obiettivo guardate l'obiettivo guardate l'obiettivo guardate l'obiettivo Abbiamo appena aperto l'obiettivo, Charlie. Abbiamo appena aperto l'obiettivo. Abbiamo appena aperto l'obiettivo. Abbiamo appena aperto l'obiettivo. Abbiamo appena aperto. Abbiamo appena aperto. Abbiamo appena aperto. Abbiamo appena aperto. Grazie.